Allora, ma dov'è rifarlo? Rifatelo? Devi farci un po' sui video Video? Sappiate che tutti i video finiscono su Youtube Tutti Salute Ciao Siete qua, in vacanza No Faccio da vacanza Faccio l'italiano Anche lei? No, lei è spagnolo Porca miseria Lo so Si però no A tutti noi Quelli che sono belli sani Cioè sani E anche alla gnocca E viva la foca Che Dio la benedota Viva la foca Che Dio la benedota Che Dio la benedota Che Dio la benedota Mirad Christian sta facendo reportaje Che Dio la benedota Che Dio la benedota